Cari amici ben ritrovati e questa volta solo per ringraziarvi. La raccolta fondi lanciata dalla nostra fondazione è terminata qualche giorno fa con un risultato così sorprendente che ha superato di gran lunga le nostre iniziali aspettative. Avete contribuito da tutto il mondo e per questo non abbiamo parole per ringraziarvi. Quindi con i fondi che abbiamo raccolto restaureremo non solo l'affresco della Madonna col bambino ma anche un altro affresco della Vergine pure molto danneggiato, uno scorcio architettronico rovinato e un San Paolo apostolo che ha bisogno di un urgente intervento di restauro. In accordo con la locale sovrintendenza dei beni culturali avvieremo a breve le pratiche per le operazioni di restauro. Grazie al vostro contributo finalmente potremo ridare vita alla nostra arte e per il risultato che abbiamo raggiunto, risultato notevole, siamo felici e soddisfatti. Nulla possiamo senza di voi, continuate a sostenerci, perciò vi chiedo di apporre la vostra firma sul modello di dichiarazione redditi e di destinare il 5x1000 alla nostra fondazione scrivendo sull'apposita casella del modello il codice fiscale che vedete anche in sovrimpressione. Cari amici, solo così potremmo ridare vita alla nostra arte e i protagonisti di questa magnifica avventura sarete solo voi. A nome mio, dei frati e della fondazione San Francesco di Paola Ollus di questo santuario ancora grazie a tutti e a ciascuno. Grazie a tutti.